E' stata la sconfitta della Seconda Repubblica, è stata la vendetta della prima, raffigurata in maniera plastica nell'espressione di disappunto scolpita sul volto del Capo dello Stato quando ha dovuto dire agli italiani che i ragazzini non riuscivano a mettersi d'accordo e che era costretto lui a suonare la fine della ricreazione perché se non se ne erano accorti l'Italia sta morendo di Covid, i negozi stanno chiudendo, tra poco finiscono i soldi della Cassa Integrazione, sta per scadere il blocco dei licenziamenti. La disegnazione di Mario Draghi come Presidente del Consiglio incaricato è la sconfitta della Seconda Repubblica incapace di trovare una sintesi al suo interno. E' la vendetta della prima che viene a mettere ordine dove i ragazzini viziati non sono stati in grado. E' il fallimento del Movimento 5 Stelle, nemmeno il lontano ricordo delle promesse con cui ha raggirato i suoi elettori. In tre anni, zero streaming, gente che non campa con 2000 Euro al mese come avevano detto, una rassegna di incapacità spesso imbarazzante che non è ridicola solo perché il Paese sta naufragando. L'unica cosa buona che hanno fatto è stata quella di tagliarsi i posti. Di loro nessuno sentirà la mancanza. E' il fallimento della nuova Lega sovranista e antieuropeista che rischia di trovarsi come Presidente del Consiglio un sovranista europeista che è l'esatto contrario di quello che dicevano loro. La Lega si salva solo grazie alla sterzata all'ultimo momento imposta da gente come Giorgetti e Ottaviani, Nicola Ottaviani da Frosinone, capaci di farsi ascoltare da un Matteo Salvini che è stato capace, nessuno l'avrebbe pensato, di ascoltare. E' il trionfo di Renzi in versione iconoclasta. Con una furia distruttrice ha fatto a pezzi il centrosinistra, preparando il terreno a un suo movimento in pieno stile macroniano, come in Francia. Macron in sei mesi diventò Presidente della Repubblica. Può piacere o non piacere, ma non è finita. Occorreranno i numeri, quindi potrà accadere ancora di tutto. Anche un governo come in Germania, con Lega e PD assieme per venire al concreto. Comunque va da una rivoluzione, fatta da Sergio Mattarella stanco dei ragazzini, fatta da uno della Prima Repubblica. Senza ricevuta di ritorno.